Continuiamo a parlare di immigrazione con questa intervista al capogruppo della Lega Nord al Senato Massimo Bitonci che si dice d'accordo con quanto dichiarato anche dalla Santa Sede nel distinguere immigrazione clandestina da status di rifugiato politico. Presidente Massimo Bitonci, la Santa Sede ha detto che bisogna distinguere i rifugiati dai clandestini. Come commenta questa presa di posizione? Siamo perfettamente d'accordo, finalmente la Santa Sede si esprime in questa fondamentale distinzione, è importante aiutare le persone però una cosa sono gli immigrati che arrivano da territori di guerra e quindi sono dei rifugiati ed è giusto accoglierli un'altra cosa sono quei immigrati regolari e clandestini che vengono nel nostro territorio, molti di questi anche per delinquere. Il tema nostro è il tema della sicurezza, della sicurezza delle nostre città e non vogliamo essere confusi con chi invece fa degli inni razzisti. Il razzismo è una cosa che noi aberriamo, invece noi siamo dalla parte della sicurezza, dei sindaci e di chi vuole che non ci sia clandestinità nel nostro territorio. Perché è importante fare questa distinzione? La Chiesa in questo campo ha sempre avuto una visione un po' troppo buonista, nel senso che aiutare è importante, noi siamo dall'idea che è più importante aiutare intanto i nostri vicini di casa, le persone che stanno nei nostri comuni, gli anziani che non arrivano a fine mese, i disoccupati, le persone che hanno problemi, ce ne sono anche e moltissimi tra i nostri, soprattutto in questo momento di difficoltà e di crisi. Si possono aiutare anche quelli che vengono dall'estero, però si possono aiutare se distinguiamo in maniera netta tra chi viene da zone di guerra, quindi sono dei rifugiati, e invece chi viene in maniera irregolare nel nostro territorio.